Buongiorno cari telespettatori di Fano TV, ben svegliati e buon caffè se lo state sorseggiando davanti al televisore. Questa è la rassegna stampa in diretta, sono le 7.30 di mattina, sfoglieremo insieme come sempre i quotidiani, quindi iniziamo insieme la giornata. Però procediamo con ordine, guardiamo prima le previsioni del tempo e anche il santo del giorno. Oggi è giovedì 12 febbraio, giovedì grasso, San Benedetto Revelli, Vescovo, il sole è sorto alle 7.11 e tramonterà alle 17.34. E allora vediamo le previsioni del tempo, sostanzialmente abbastanza buone per oggi, il cielo inizialmente nuvoluso lungo la fascia costiera, il primo collinare per presenza di nuvi basse con prevalenza di sereno nella tarda mattiranta, però vedete compare il sereno, le precipitazioni sono assenti, le minime sono in lieve diminuzione. Cosa di particolare attenzione sono le foschie, i banchi di nebbia, vedete c'è la simbologia che le rappresenta, nelle ore più fredde della giornata, quindi attenzione alle nebbie e alle foschie. Per venerdì anche qui inizialmente è parzialmente nuvoloso il cielo, nella prima fase della giornata, niente precipitazioni, diminuzione delle minime, delle temperature e quindi anche qui però per venerdì fenomeni di particolare attenzione, foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde della giornata. Vediamo le previsioni del sabato, il primo giorno del fine settimana, il cielo parzialmente nuvoloso, anche qui precipitazioni assenti nella seconda parte della giornata, però ci saranno delle schiarite, le temperature sono in lieve aumento e scompare la simbologia della nebbia, quindi per sabato non ci dovrebbero essere fenomeni di foschia e di nebbia. E allora, guardiamo le pagine dei giornali, iniziamo dal resto del carlinio e dalla vicenda del ritrovamento del presunto Leonardo. A parlare nelle pagine dei giornali è la titolare, ecco lei che ha la proprietà del dipinto. E allora vediamo il Leonardo ritrovato, intervista alla signora Emidia, detta BB, perché oltre a Leonardo, Tiziano e Manet, ecco il museo di Emidia, appunto detta BB. Una volta viveva nello splendore, aveva un aereo personale, ora impazzisco in una casa popolare. L'altra sorpresa perché pare che possieda anche una copia del ritratto di Isabella, però è custodita dal notaio di fiducia a Lugano. E non è soltanto il presunto Leonardo da sequestrare, la procura di Pesaro sta inseguendo un bottino di opere date del valore di mezzo miliardo di euro. E quindi insomma ci sarà ancora di che parlare di questa vicenda, perché come sempre i giornalisti fanno il loro lavoro, vanno a scavare e vengono fuori dettagli particolari di questa vicenda. Qui è un po' ricostruita nelle pagine del resto del Carlino, nella pagina 5 in primo piano, un po' tutta la vicenda come si è snocciolata fino ad arrivare alla conferenza stampa dei giorni scorsi. In retroscena le manovre definite appunto creative di Schau, il legale della donna, principi arabi, broker e banche per tentare di vendere Isabella a tutti i costi. Però insomma nelle pagine del resto del Carlino c'è anche la politica che è in primo piano, soprattutto l'altra indagine, quella sulle spese pazze in regione. Allora vediamo politici nella bufera, il capogruppo del PD Mirko Ricci ha una serie infinita di accuse, si risale fino all'epoca addirittura di Luigi Minardi e Giannotti. Inchiesta spese pazze, non si salva nessuno, la procura accusa tutti i consiglieri pesaresi in carica. C'è anche Vittoriano Solazzi. La curiosità ad Adriana Mollaroli del PD è contestato anche l'acquisto del libro La principessa sul pisello. E poi in basso chiaramente ci sono anche le reazioni dei coinvolti. a parlare Luca Caccia Scarpetti dell'Italia dei Valori, dice io sono sereno perché sul mio sito è pubblicato tutto il rendiconto. E ancora dalle pagine del Carlino la cronaca, questo è un episodio di cronaca, ahimè carambola sull'auto e muore un pedone, tutto è avvenuto in via del Novecento, il pensionato camminava sul marciapiede, veramente più di così non si sa che cosa fare, i pedoni insomma se non camminano sul marciapiede. Allora si chiamava Aurelio Barbieri e viveva con la moglie, il decesso è avvenuto ahimè in ospedale. E poi un fatto anche questo di cronaca che ancora non è ben chiaro, è successo però che in via Togliati cade dal terzo piano un professore del liceo Mamiani e la scuola ha giustamente annullato la festa del giovedì grasso ancora in fase di accertamento le cause dell'origine del dramma. Andiamo nelle pagine di Fano per il resto del Carlino, c'è un articolo bello sul Vernacolo, sulle commedie in dialetto che così animano sempre alcune serate e una rassegna stampa in modo particolare da 11 anni tiene banco, è sull'onda del film di Secchiaroli. Allora vediamo di che cosa si tratta, ecco qua, Vernacolo, Battecassa, Collo Comune, siamo in migliaia, dateci più fondi, la rassegna dialettale Cianfrusaglia compie 11 anni e i numeri sono veramente impressionanti, numeri da record, è stata presentata l'undicesima edizione, ci serve una sede per le prove, un magazzino e tante sono le opere in programma e qui in questo articolo ci sono le date e i protagonisti e insomma il dilemma è sempre quello, avere lo spazio, i posti per effettuare questa forma di arte così amata, comunque che è anche depositaria di una cultura popolare, la cultura del Vernacolo. E poi caso Foib, il giorno dopo il consiglio monotematico, spray sul muro dell'istituto con simbologia neofascista, scritta antipartigiani al Battisti, Mascherin dice la questione, è preoccupante, ancora questione del maltempo, il maltempo che chiaramente come ho visto danni ne ha fatti tanti, domani alle ore 12 scade il termine per presentare la richiesta di risarcimento e allora per ora solo due chiedono di essere risarciti, domani alle ore 12 appunto scade il termine, Giuliani dice entro il 13 porteremo i dati di 25 bagnini, l'ASET, gli oggetti danneggiati, dice quelli che sono stati lasciati sulla via per essere raccolti, la pulizia è gratuita e quindi domenica piscina chiusa ma solo per precauzione, stiamo parlando del caso dell'amianto e a parlare è l'assessore sulla Dini Salvalai. E quindi questione lavoro, ultima pagina del resto del Carlino, Saipem incontro a Roma per sperare, ieri il summit in regione con l'assessore al lavoro Lucchetti, CISL, convocheremo tutte le parti coinvolte. La situazione qual è? Al momento il lavoro c'è ma c'è anche una grande apprensione tra gli operai. Cambiamo testata, andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico e Pesaro, la pagina di Pesaro viene aperta in posizione centrale da una pagina di edilizia che si vorrebbe creare e che non piace molto ai residenti, variante del piano regolatore per realizzare un altro mostro in cemento. Dove siamo? Siamo in Viale dei Partigiani dove c'è appunto un vecchio casale che dovrebbe essere sostituito da un mostro in cemento come viene chiamato nell'articolo, sono state raccolte oltre 100 firme che presentano un esposto e si voterà la deribola in giunta senza passaggio in consiglio. E poi mozione dei 5 Stelle, salvaguardare i chioschi dei Fiorai che si trovano al cimitero centrale, questa è un'iniziativa dei 5 Stelle, andiamo nella pagina di Fano del Corriere Adriatico, incontro e proposta in extremis, si parla dell'ex zuccherificio, la società Madonna Ponte propone realizziamo palace e piscina in cambio del sì e ridiscutiamo il tutto. E quindi insomma vedremo anche questa questione annosa ormai che ci si trascina da diversi anni, addirittura dall'amministrazione Aguzzi, questa questione dell'ex zuccherificio, che cosa farne insomma di quei fabbricati semi costruiti. Cambiamo pagina, il Carnevale, allora il Carnevale sapete che ogni anno elegge il suo sindaco, il sindaco del Carnevale, pare che allo stato attuale delle cose vada a Cecchini la fascia del sindaco di Carnevale, ma non si escludono sorprese, cerchiamo un personaggio a costo zero, sempre la questione economica, il programma di Giovedì Grasso snocciolato in tutte le righe di questo articolo del Corriere Adriatico. E poi, questione sempre dei danni, una ripresa su questo argomento, convocati tutti i residenti dopo i danni della mareggiata, stasera l'assemblea del Comitato Lebrecce. e questione anche ecologista, trattata nelle pagine del Corriere Adriatico, e parliamo dell'iniziativa Mi Illumino di Meno. In piazza, luci spente e lanterne al cielo, i ragazzi sono i protagonisti dell'iniziativa Mi Illumino di Meno, tanti ragazzi della scuola coinvolta, prevista anche una danza maori. e, insomma, nella giornata di venerdì ci sarà in piazza la canzone composta dagli alunni fanesi e, insomma, procede a gonfie vele il concorso organizzato dalla trasmissione di Rai 2 Caterpillar. E, ancora, altra testata, il messaggero, l'ultima che guardiamo per oggi. Vediamo che anche qui il punto, il focus, viene fatto in prima pagina in posizione alta sulle spese pazze in regione. Terremoto qui, chiusa l'inchiesta sui costi del Consiglio, sono 66 gli indagati di tutti i partiti, un milione di sprechi. Poi fotonotizia, naturalmente, la conferenza stampa con l'immagine del ritrovamento del quadro. Anziano travolto e ucciso dopo il tamponamento. Vediamo anche cosa dice Massimiliano Fazzini nelle pagine del messaggero. Per il tempo, nuvole, freddo e un po' di neve. Quindi annuncia un po' di neve. Allora, andiamo a vedere il quadro. Il Leonardo, come vi dicevo, a parlare è la proprietaria che dice Mi sento danneggiata. Emilia Cecchini, la proprietaria pesarese del dipinto, dice Sono coinvolta ingiustamente. Quell'opera è in Svizzera dal 1913, ma il procuratore indaga. Sono emersi elementi tali da far supporre un intrigo internazionale legato al traffico di tesori d'arte. L'altra pagina del messaggero che riguarda Pesaro e provincia e appunto la provincia chiederà i danni allo Stato per calamità naturale. La proposta è partita dal vicepresidente Gambini. L'obiettivo adesso è di coinvolgere tutte le marche. Maltempo, la corsa appunto contro il tempo per le domande di rimborso perché domani appunto scadono i termini. E ancora l'ultima pagina che vediamo è quella del messaggero che riguarda Fano, Maltempo appunto. Quarto esposto dalle brecce, il comitato Lebrecce che su questa questione ha sempre fatto grandi focus e grandi rendiconto. i residenti sono esasperati dalla fragilità del territorio e dal continuo rinvio dei lavori di sistemazione delle scogliere. E poi la questione della piscina e insomma il rischio di dispersione di amianto nell'ambiente a causa del buco che i ladri hanno fatto per introdursi all'interno. Buone notizie perché dal soparluogo dell'ARPAM sono arrivati finalmente i risultati della loro indagine ambientale. Aladdini salvarai dopo il re dei ladri e i vandiri soprattutto non c'è nessun rischio. E anche qui la questione dell'ex zuccherificio i grillini voteranno no. Bene, questa era l'ultima pagina che affrontavamo per questa rassegna stampa di oggi che tornerà naturalmente domani mattina alle 7.30 questa sera invece occhio alla notizia alle 20.30 e se volete essere sempre aggiornati su tutte le news naturalmente oltre al nostro portale adesso avete a disposizione anche l'applicazione e l'app gratuita per il momento soltanto disponibile su Google Play quindi per il sistema Android sul sistema Apple ci stiamo lavorando insomma quindi a presto. Bene, grazie e buona giornata a tutti voi. Grazie a tutti.